ciao questa è la nostra quarta settimana di instagram challenge back on your mat vediamo la sequenza questa volta iniziamo a terra ci portiamo con le piante dei piedi unite per fare bada konasana ok quindi avviciniamo più che possiamo i talloni a noi afferriamo i nostri piedi inspirando stendiamo bene la schiena ed espirando lentamente poco per volta andiamo a inclinarci in avanti e rimaniamo nella posizione inspirando risaliamo molto lentamente andiamo ad afferrare con le prime dita delle mani gli alluci spostiamo il peso indietro solleviamo le gambe stendendole davanti a noi guardiamo verso i nostri piedi e stiamo lasciamo andare gli alluci e stendiamo le braccia davanti a noi pieghiamo la gamba sinistra la portiamo a terra afferriamo il piede destro lo solleviamo stendendo la gamba verso l'alto guardiamo le nostre dita schiena stesa e stiamo pieghiamo il ginocchio destro andiamo a portare il piede destro dietro stendiamo la gamba sinistra in avanti le ginocchia vicine inspiriamo solleviamo le braccia espiriamo ci incliniamo in avanti spieghiamo la gamba destra la pieghiamo in avanti afferriamo il piede sinistra in avanti spieghiamo il ginocchio sinistro solleviamo la gamba sinistra verso l'alto e stiamo spieghiamo il ginocchio sinistro il piede lo portiamo dietro stendiamo di fronte a noi la gamba destra le ginocchia vicine gli schiaterra inspiriamo e speriamo ci allunghiamo in avanti inspiro stendo la schiena e spiro qui inspira risali mi sollevo porto entrambi i piedi dietro di me mi porto sulla punta dei piedi i piedi sono leggermente aperti per permettermi di passare il mio busto tra le gambe le braccia passano intorno alle mie gambe vado ad afferrare le caviglie inspiro stendo la schiena e ispirando mi inclino in avanti inspiro stendo la schiena guarda di fronte a te porta le mani a terra ben forti sollevo i talloni mi bacca sana mi scendo e mi siedo bene questa è la nostra quarta sequenza alla prossima namaste buon divertimento con il challenge questa settimana e non non dimenticarti di taggare nelle immagini lo sponsor re yoga e gli insegnanti lascimi a yoga dutch smiling yogi and frida loves yoga buon divertimento namaste non di sentire è inizia